Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video dalle splendide Maldive, il mio posto del cuore Oggi finalmente è arrivata l'ora di filmarvi l'home tour della nostra villetta sull'acqua Che ragazzi preparatevi, secondo me è una delle più belle villette che ho mai avuto qui alle Maldive È veramente gigantesca, è bellissima Sono proprio davanti alla porta di casa adesso, ma camminiamo un pochino sul moletto Vi faccio vedere, camminiamo un pochino sul moletto qua, così la vedete anche da lontano Lì c'è la nostra isoletta che si chiama Ganghei, ve lo lascerò scritto perché è veramente difficile la pronuncia E trovate anche tutte le informazioni giù nel box informazioni Nonostante il nome dell'isola sia Maldiviano, però ragazzi qui parlano tutti italiano Il direttore del resort è italiano e tutti quelli che ci lavorano parlano un italiano veramente perfetto Quindi se volete venire qui alle Maldive ma non sapete parlare l'inglese o non sapete parlarlo abbastanza bene Da sentirvi sicuri nel viaggiare in un posto così lontano, sappiate che qui potete stare super super tranquilli Vi sentirete a casa perché veramente sono tutti tutti italiani, per la maggior parte gli ospiti sono italiani Ma tutto lo staff parla un italiano perfetto Questa è la nostra isoletta, la vedete tutta nell'inquadratura veramente piccolina, molto intima, è bellissima E poi c'è il pontile che porta appunto a tutte le casette qui sull'acqua Queste sono le ville più grandi e più belle di tutta l'isola, quindi siamo molto molto fortunati Mentre alla fine del moletto c'è un ristorante Entriamo assieme già qui ragazzi Guardate che meraviglia, quest'acqua cristallina La mattina qui vengono sempre le aquile di mare, quindi è bellissimo vederle appena sveglie E questa è la nostra entrata, la stanza è la numero 43 Ed eccoci qua È bellissima già entrando perché ci sono tutte queste vetrate da cui si vede il mare È davvero davvero magica Naturalmente la parte esterna è la mia preferita Ma vi faccio intanto vedere l'interno giustamente Così la vedete da un'altra prospettiva Le vetrate sono alle mie spalle e lì c'è la porta d'entrata Ma torniamo verso quella zona Così vi faccio vedere che cosa c'è subito subito all'ingresso Di là c'è il bagno, ve lo faccio vedere dopo Anche quello è molto particolare, ha due ingressi All'ingresso ci sono appunto questi due armadi giganteschi che io adoro Perché quando sono in vacanza mi piace sempre spacchettare tutto E non dover pensare ad avere la valigia tra le scatole e a tirar fuori tutto dalla valigia È vero che poi bisogna rifare la valigia prima di ripartire Ma è bellissimo perché ti fa sentire a casa Quindi vediamo che cosa c'è qui nel primo armadio Guardate quanto è grande ragazzi Qui ci sono tutte le cosine di Lucy che è l'amica che sta qui con me E queste sono le cosine che ho portato io Questi sono tutti gli abiti in realtà più eleganti Voglio indossare questo, voglio indossarlo stasera ma visto che è Halloween Indosserò questo nero E sì questi sono tutti gli abiti un pochino più eleganti Poi ho portato questa camicia in lino che devo stirare Ma porto sempre con me anche il ferro da stiro Questo è un ferro da stiro a vapore che ho preso su Amazon Non l'ho pagato neanche tantissimo ma nei viaggi è il mio salva vita E vediamo l'altro armadio Anche questo è gigantesco La stessa misura dell'altro Infatti metà è vuoto ancora perché non siamo riuscite a riempire tutto C'è davvero tanto tanto spazio Qui abbiamo la cassetta di sicurezza Qui ci sono alcuni dei miei costumi La maglietta schermo solare totale Per quando facciamo snorkeling Il mio costume preferito del momento è sicuramente questo Che è nuovo ed è di Mefui Adoro il colore ed è comodissimo E poi appunto qui ci sono copricostume parei e cose Un pochino più a cui sto meno attenta rispetto agli abiti eleganti Come potete vedere forse dovrei stare più attenta ma sono così E poi qui insomma cosine intime Reggiseno che non mi piace quindi non l'ho messo E qui sotto c'è la mia Dior bag Borsa da spiaggia E poi ci sono i vestiti con i quali ho viaggiato Per venire qua e il resto appunto vuoto Lì ci sono le cosine di Lucy E extra cuscini là in alto Proseguiamo sempre da questo lato Direi qui abbiamo la sezione mini bar E snack Lì c'è la tv che sto vedendo per la prima volta in questo momento Perché non abbiamo avuto veramente il minimo pensiero di accendere la tv in un posto del genere Se guardi la tv secondo me è qualcosa che non va O stai male o è qualcosa che non va Comunque qua sotto ci sono allora vabbè l'acqua che questa è una particolarità di cui già vi avevo parlato ma ci tengo a ripeterla questa cosa I maldiviani ci tengono tantissimo all'ambiente e quindi non comprano bottiglie di plastica se non veramente poche L'acqua che si beve su tutte le isole maldiviane è acqua di mare Questa è acqua di mare filtrata con tutte le tecniche più moderne e diventa acqua insomma potabile buonissima buonissima e fa bene all'ambiente Poi qui ci sono snack vari le capsuline per la macchinetta di caffè Qui abbiamo altre bustine zucchero altri caffè istantanei credo E poi bustine di tè e abbiamo anche il bollitore E qua sotto c'è il minibar vero e proprio Allora da questa parte ci sono altri cassetti con altrettanto spazio che non ci serve E questo è il minibar Proseguiamo sempre da questa parte Qui c'è la sezione lavoro la sezione scrivania Qui vabbè ci sono tutte le informazioni dell'hotel con i vari menu per il servizio in camera Qui abbiamo tutte le informazioni sulle attività da fare E qui c'è la mia postazione lavoro praticamente Ovviamente c'è il computer la mia agenda e qua sotto ci sono un sacco di cassetti veramente in questa stanza se avete bisogno di spazio c'è più di così non può esistere umanamente E qui c'è la borsetta con tutte le varie cosine della mia gopro treppiedi e la gopro Ok abbiamo visto tutta questa parete Lì c'è la porta d'entrata Gli armadi Sezione minibar Sezione scrivania Barra lavoro Qui accanto alle porte abbiamo due Poltroncine Eccola qua Una da questa parte Una dall'altra parte E poi vabbè qui ci sono i letti naturalmente Menzioniamoli che stanno al centro della stanza Qui ci sono i letti abbiamo chiesto quelli singoli Naturalmente c'è anche la disponibilità per i letti matrimoniali Un'altra cosa meravigliosa di questa stanza è quanto è alta Il soffitto è altissimo E ti dà veramente l'impressione di uno spazio gigante E poi qui volevo farvi notare perché questo resort ha dei pezzi d'antiquariato molto particolari Che io ho notato subito che mi sono piaciuti molto perché non li avevo mai trovati in nessun altro resort Di solito gli altri resort appunto hanno mobili bellissimi ma non sono così speciali E questa cassa panca ha sicuramente una storia si può anche aprire È pesantissima ma mi andava di menzionarvela questa cosa perché è una cosa che dà un tocco in più a questo resort Che gli dà carattere secondo me Ho le porte alle mie spalle Vediamo adesso l'altra parete quella delle vetrate Prima cosa allora qui c'è la poltroncina Prima cosa che mi va di menzionare anche qui Questo stupendo pezzo d'antiquariato che non hanno saputo dirmi che cosa fosse Quindi se qualcuno di voi se ne dovesse intendere Fatemi vi prego sapere a che cosa serve perché c'è una porticina qui E tantissimo spazio all'interno Io ho pensato quasi che potesse essere una specie di stufa Però non ha tanto senso perché poi il calore non ha modo di uscire Quindi non credo lo sia Fatemi sapere perché sono estremamente estremamente curiosa E poi qua sopra c'è questa palettina Che appunto vorrei anche questa capire a che cosa serve Molto bello perché queste tre vetrate si possono assolutamente chiudere per la notte Io ho bisogno di buio totale quando dormo Quindi queste si chiudono Sono scorrevoli tutte tutte quante Stessa identica cosa anche per le porte esterne Ci sono all'interno le porte scorrevoli In modo da fare buio totale Se ne avete bisogno o per la notte appunto Si può chiudere ovviamente anche l'altro lato Ma continuiamo per questa parete Così vi faccio vedere il resto Qui c'è la mia valigia Quello è il bagaglio a mano Questo qui ci sono i portavaligie Ma noi appunto le abbiamo svuotate E la mia sta sotto il letto Qui sopra i letti c'è questa mensolina Con le abajur Lì ci sono i miei gioielli Il mio scrignetto Che ho portato Non ne ho portati tantissimi Ma mi piace sempre cambiare Anche solo gli orecchini Quando cambio gli abiti Stavolta ho portato questi di Chanel E questi di Louis Vuitton E questa è la stanza Da un'altra prospettiva Proseguiamo ancora dritto da questa parte E vi faccio vedere il bagno Anche questo è veramente veramente gigante Appena entrati subito davanti a noi C'è questa postazione make up Che adoro ragazzi Con lo specchio Il phon non l'ho portato io Ma è in dotazione È già in tutte le stanze qui E qui ci sono I miei scrunchies La piastra Che non so perché ho portato Perché non la uso Qui c'è tutto il mio make up Magari vi farò un video Tipo un Un reel su Instagram Un tiktok In cui vi faccio vedere Cosa ho portato con me I miei pennelli Lacca per capelli Perché avevo in mente Di fare tipo I capelli mossi Però con questo caldo Non ho nessuna voglia Di scaldare la piastra E poi Continuiamo Allora la porta da cui siamo entrati È questa Continuiamo Qui c'è il doppio Lavandino Quello è il lato mio Questo è il lato di Lucy Adoro il fatto che ci sia Il doppio lavandino Sono esattamente identici I due lati Ed adoro il fatto Che ci sia tantissimo spazio Per appoggiare Le proprie cosine Cosa che non tutti gli hoteli Tutti i resort hanno Qua sotto ci sono Tutte le creme Solari Che ho portato Io veramente Non mi risparmio mai Sulle creme solari Ho portato questa Della Biotherm Ovviamente 50 più Ho portato Questa è per il viso Della Rila Steel Ovviamente 50 più Ho portato questo stick Di Corf Anche questo ovviamente 50 più Poi Queste anche sono Per il viso Isdin è la Roche Posay Entrambe Questa Isdin è 50 Questa è 50 più Poi Questa è di Dermolab Questa è 30 Devo finirla E poi Questa sempre della Isdin Ma questa è illuminante Un bellissimo effetto Illuminante Un po' Highlighting E poi qui Questo lo adoro È di Diego Dalla Palma Ed è un rossetto Con fattore protezione 50 più Ebbene si esistono E l'ultima Cosina È il dopo sole Anche questo è di Diego Dalla Palma Con i lavandini alle mie spalle Invece Direttamente davanti Lì c'è la postazione make up I nostri accappatoi Davanti invece c'è La doccia E guardate che meraviglia Perché è una doccia aperta Questo è un bagno Aperto Infatti Mentre ti fai La doccia Puoi Tranquillamente Guardare Il mare Perché è Aperta Guardate Che bellezza Rientriamo Verso il bagno Lì ci sono I lavandini Vi faccio Vedere L'ultima cosina Lì ci sono Altre mensole Gigantesche Qui c'è veramente Tantissimo Tantissimo spazio Penso possano essere utili Per chi ha tante valigie Non sa dove metterle Quindi Le può lasciare Qui E non vederle più Per il resto Della vacanza E poi Accanto alla doccia C'è un'altra porta Che è La porta per il WC Che è staccato Quindi qui c'è Solo 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 Il WC Ma anche questo È speciale Perché È aperto Anche da qui Si può Guardare Il mare Noi siamo entrati Da quella porta Lì E usciremo Da questa porta Qui Perché il bagno Ha due Entrate Indipendenti E voilà Siamo tornati Vicino Alla porta D'entrata Questa È tutta L'isola E questa È la nostra Casetta Ma arriviamo Finalmente Al pezzo forte Ragazzi Usciamo E vi faccio Vedere L'accesso Privato All'acqua Che abbiamo Della nostra Stanza Tra l'altro Qui Abbiamo Dei tramonti Meravigliosi Ragazzi Ogni sera Il tramonto Qui è uno Spettacolo E non si sa mai Di che colore Sarà Ma si sa Che sarà Spettacolare Allora Usciamo E voilà Questa è tutta La nostra Parte Esterna Privata Abbiamo Due sedie A sdraio E poi Questo gazebo Con un vero E proprio Letto Cioè volendo Potremmo dormire Anche qua E guardate Che vista Ragazzi Mamma mia Non ci posso Credere Che sia vero Questo mare Stupendo Allora Vi faccio vedere L'altra parte Allora Qui C'è lo stendino Molto Molto Utile Il mio Pareo Si è Completamente Bagnato Oggi Ma è Già Asciutto Lì c'è Un altro Pezzetto Della nostra Terrazza Quello Il ristorante Che vi Facevo Vedere Prima C'è Un silenzio Ragazzi Qui E lì C'è L'accesso Al mare Che è Qualcosa Di Speciale Davvero E da qui Scendiamo Per fare Snorkeling An A 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 Grazie per la visione!